Isole gemelle è un viaggio che parte dalla Sardegna e arriva a Okinawa, è un viaggio sul filo della tessitura, un viaggio lungo 10.000 km, un filo rosso che unisce queste due isole, un'isola e un'arcipelago in realtà, che abbiamo iniziato a scoprire grazie a una tessitrice giapponese che aveva visto il nostro primo lavoro, che si chiamava Janas, come si vuol dire a seconda delle pronunce locali, storie di donne, telai e tesori, ha ricevuto il DVD di questo documentario che raccontava la tessitura in Sardegna e l'ha portato a Okinawa. Da lì è nato un legame, è nato un legame con una terra che ha tante cose in comune con la Sardegna, molte di più di quelle che immaginavamo e in questo viaggio, che è la stessa protagonista del nostro primo lavoro sulla tessitura, cerchiamo di raccontare ambienti, storie di tessitrici, artisti, designer, partendo da Sardegna, arrivando a Okinawa e tornando, riportando a casa in Sardegna il risultato di questa scoperta. È un film che stiamo portando in giro da luglio, abbiamo iniziato a Cagliari, adesso siamo a Ristano, poi andremo a Macomera, ad Alghero, poi speriamo di continuare a portarlo in giro.